Via dei Fari Imperiali perché è la via più importante di Roma con tutti quanti i monumenti di Roma quindi il Colosseo e tutta la storia Il circuito che mi piacerebbe correre con la moto Honda è Laguna Seca La strada che mi piacerebbe per correre con la moto Honda è Lungomare di Riccione Il circuito che ci piacerebbe per correre con la moto Honda è il Mugello La strada che ci piacerebbe per correre con la moto Honda è Viale Ceccarini Secondo me la cosa indispensabile per andare in moto è una moto La cosa più importante è la tipa Secondo me il casco è anche una bella, anzi la ragazza che sta a fianco Invece rispondo il guidatore perché se no la ragazza non ci può salire Ci piacerebbe andare a Cuba Passa che mi ha ancora dietro in persa Passa che mi ha ancora dietro in più Passa che mi ha ancora dietro in più Passa che mi ha ancora dietro in più Passa che mi ha ancora dietro in più